Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A1 restano code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Scandici e B1 Variante. Sempre in A1 prudenza per nebbia banchi tra Ronco Bilaccio e Aglio. Possibili disagi inoltre per presenza di personale su strada per lavori tra Valdichiane e Arizzo in direzione Firenze. Ultima pagina per il trasporto pubblico locale. Ricordiamo che la T1 della tramvia di Firenze è parzialmente interrotta in orario notturno dalle 23 a mezzanotte e mezzo dal lunedì al giovedì per lavori della nuova linea San Marco. La sospensione interessa il tratto compreso tra le fermate Fortezza e Strozi Fallaci coperto comunque da servizio di bus sostitutivo. Buon versetto Scania Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.